Abbiamo aggiunto la possibilità... Una manovra bocciata nel metodo e nel merito, perché non affronta le vere emergenze degli abruzzesi e se l'approvazione è arrivata sul filo di lana, il merito è nostro. Va giù duro l'opposizione sul bilancio di previsione varato dalla maggioranza di centrodestra. Tanti i limiti evidenziati. Sentiamo il capogruppo del PD, Silvio Paolucci. Metodo Meloni, confusione, si naviga a vista, soprattutto si contingentano i tempi per un confronto e una discussione. Addirittura davvero questa volta abbiamo rischiato l'esercizio provvisorio e bisogna riconoscere a tutte le opposizioni, a partire dal PD e il centrosinistra, che è grazie a loro che si è evitato, perché le emergenze degli abruzzesi oggettivamente sono molto altre. A partire dal calo demografico, la perdita di ben 20.000 occupati rispetto allo scorso anno è lo shock energetico. Avevamo ragione noi, la battaglia fatta durante l'assestamento è stata confermata nel bilancio di previsione e poi abbiamo finalmente dato una possibilità anche di poter intervenire sullo stesso tema per le piccole e medie imprese, in particolar modo gli artigiani. E ancora, l'IRAP per le ONUS finalmente sono state tolte. Ci sono alcune appostazioni, distanziamenti, sempre per il sociale, che però per quanto ci riguarda sono ancora insufficienti, ma sono piccoli segnali che però tratteggiano quello che a mio avviso è il compito di un'opposizione responsabile, sì, ma anche costruttiva. Quanto vale il bilancio regionale in Abruzzo? Oltre 6 miliardi di euro e gran parte sta ovviamente sul settore sanità e non dico altro perché non c'è alcuna programmazione da 4 anni, ci sono solo file d'attesa e migrazione purtroppo anche di pazienti. Che sia un bilancio inadeguato lo ha detto anche il Movimento 5 Stelle. Il capogruppo Francesco Taglieri rivendica tuttavia alcune proposte migliorative proprio grazie alle battaglie del Movimento. Abbiamo ancora una volta dato il nostro contributo in maniera importante, troviamo all'interno di questa legge 5 milioni a favore delle famiglie, soprattutto a favore di quelle che sono le fasce più deboli, troviamo sicuramente anche una misura a sostegno dei trasporti oncologici, dei giochi di inclusione e di tante altre attività che riguardano l'ambiente, che riguardano il sociale e che sicuramente riguarderanno le comunità energetiche sui nostri territori. Questo ci permette, ci permette ancora una volta, di portare a casa uno straordinario lavoro dopo ore e ore di interventi all'interno del lavoro. Altri emendamenti approvati all'opposizione, i tre che portano la firma di Sara Marcozzi, esponente di Insieme per il Futuro. Nel dettaglio è stato incrementato di 150 mila euro il finanziamento a disposizione dei centri antiviolenza e delle case rifugio e sono stati stanziati due contributi straordinari per l'organizzazione del prossimo ciocofestival di Chieti, 30 mila euro, e per un progetto di valorizzazione del comprensorio del Voltigno, altri 50 mila euro. Per fare questo... Grazie.